Ciao, sono Tello e io vi aspetto tutti, tutti quanti, cioè ditelo proprio in giro, perché il 12 settembre dalle 18.30 saremo a Villa Antilope, a Villa Antilope, vedi, è fantastico, Villa Antilope, cioè non è che ce lo possiamo scordare, per Rino Martinez, ma in realtà con Rino Martinez per i bambini dell'Africa, cioè non si può mancare, capito, non è una proposta, voi dovete esserci insieme a noi, noi ci saremo tutti, musicisti, artisti, ho capito, cioè, devo insistere, no. Vabbè, so che avete già tutto chiaro, per cui cuore per la vita 2012.